La prima presidente donna del Brasile si appresta ad insediarsi. Con una cerimonia in Pompamagna, Dilma Rousseff inaugura oggi il suo primo mandato alla guida di una delle più promettenti economie del mondo. Delfina del popolarissimo presidente uscente Lula, da cui raccoglie il testimone, per molti rappresenta una speranza. Sono venuta qui soprattutto perché Dilma è una donna, spero che sia un buon presidente, soprattutto per le donne. E quello di Dilma Rousseff si presenta come il governo più alfemminile della storia brasiliana, con quasi un terzo dei ministri donna. La sicurezza è ai massimi livelli a Brasilia, dove sono attese decine di leader mondiali.